L'idea era di trovare un'ambientazione un po' surreale, visto che c'è un po' di spazio in questo video, sono un po' di costumi e di personaggi che sembrano appartenere un po' un altro pianeta. L'idea di una stanzona blu era quella che ci piaceva per dare un senso un po' di astronave. Ci piaceva l'idea di tornare con una canzone un po' energica appunto, allegra. Ma quanta noia ad essere perfetti, i ponti sono fatti per buttarsi, mica per metterci lucchetti, forse troppa fantasia, dei problemi di allegria, solo la mia batteria, che fa pum pum cha, come come? pum pum cha, è in pratica, tutti i vestiti di nero con la faccia validata...